Uno degli ultimi atti della giunta comunale che risale alla fine del 2013 è quello del via libera al progetto da 2,8 milioni di euro per il potenziamento dell'aeroporto dei parchi di Preturo. Il tutto mentre già quasi la metà dei 60 dipendenti, assunti grazie al bando regionale Lavorare in Abruzzo 3, 800 mila euro, sono stati mandati a casa. Per il progetto preliminare dello scalo di Preturo è necessaria una variante urbanistica e anche in questo caso si parla di soldi pubblici per la precisione di risorse relative ai fondi FAS 2007-2013. I lavori previsti sono quelli per la messa in sicurezza dello strip laterale, regimazione delle acque, interramento delle luci della pista, realizzazione di un percorso di avvicinamento e sentiero di avvicinamento, installazione del sistema di radionavigazione per aeromobili. Tutte le opere saranno poi consegnate dal comune, proprietario dello scalo, al gestore che dovrà provvedere alla mototensione, ovvero la società Express, che finora non è stata ancora in grado di far decollare lo scalo aquilano. Dopo il volo dimostrativo di dicembre da Roma all'Aquila, la polvere è tornata ad accumularsi sui banchi di check-in e rullo bagagli, mentre per l'eventuale apertura di una qualche rotta bisognerà attendere la prossima primavera. Anche se realisticamente parlando, in pochi credono, nell'avvio a breve, di voli commerciali da e per il capoluogo.